Allora, bocca fiusa, aprite bene le orecchie, oggi trattiamo di caffè. Il caffè Bormone ci ha cercato per la loro pubblicità, disegna il caffè, quindi dovremo fare sui lati della scatola dei disegni e poi nella parte centrale. Va bene, dai, iniziamo, studiamoci, vai Mattite, romme. Il caffè Bormone ci ha cercato per la loro pubblicità. Grazie a tutti.